Ciao ragazzi, anche oggi come nel video di due settimane fa su The Zerby vi voglio portare il riassunto delle parole di Di Biaggio il quale ha fatto un intervento anche questa volta sul sito MyAiac e quindi come nel video di The Zerby vi lascio sempre in descrizione il link dove potete andare a vedere i miei appunti che ho preso e che ho sistemato e adesso ve ne faccio una breve sintesi Come molti di voi sapranno Di Biaggio ha avuto un'ottima carriera da giocatore, ha giocato in Serie A, è andato anche in nazionale dopodiché nel 2008 ha iniziato a fare l'allenatore come lui stesso dice ha iniziato addirittura dalle serie dilettantistiche e dai giovanili per poi arrivare nel 2008 all'under 20 della nazionale italiana, poi under 21 ha fatto anche un paio di panchine nella nazionale maggiore dopodiché adesso nel 2019 è diventato l'allenatore della Spalda il 10 febbraio ciò significa che ha portato a termine soltanto tre partite con la squadra di Ferrara quindi non ha parlato molto della sua esperienza alla Spalda ma ciò su cui si concentrava il webinar era il 4-3-3 infatti Di Biaggio nelle sue esperienze da giocatore ha avuto spesso Zenek Zeman in panchina e lui dice che proprio dal boemo ha avuto una grande influenza ereditandone anche il sistema di gioco e il modo di giocare del boemo come prima cosa Di Biaggio fa riferimento proprio a una frase di Zeman che è non è passaggio se non tagli uomo e questa è una frase molto indicativa nel senso che il passaggio verticale fra le linee è sicuramente il punto cardine del sistema di gioco di Di Biaggio e di Zeman l'allenatore romano mostra dei principi che sono le linee di gioco che appunto sono decise dai giocatori perché il calcio non è un gioco statico ma dinamico e quindi continuano a variare e poi ha messo dentro anche il concetto degli spazi come contenitori nel senso che gli spazi sono da considerare come delle zone di gioco che vanno riempite per questo contenitori e ogni giocatore si deve andare a muovere ed inserire in diversi contenitori il secondo principio è racchiuso in una frase costruisco e decido punto esclamativo e conquisto e riparto punto interrogativo questo è importante perché costruisco e decido significa che io ho il pallone e quindi posso decidere cosa fare e io devo determinare il gioco come diceva De Zerbi nel suo intervento mentre conquisto e riparto significa che sì riconquisto il pallone però devo valutare se andare subito verticale perché appunto Di Biaggio dice che a inizio carriera pensava proprio questo che appena conquisto il pallone devo andare a fare gol mentre invece inserendo il punto interrogativo alla fine della frase significa che devo valutare dove sono i miei compagni di squadra dove sono gli avversari dove dove riconquisto il pallone quindi se sono nella mia metà campo quindi bisogna valutare questi fattori dopodiché ovviamente il primo pensiero che deve avere il giocatore è quello di andare a ripartire e andare a fare gol dopodiché è il principio della conoscenza degli spazi che un po' si va a racchiudere anche in quello delle linee di gioco in cui ogni giocatore deve capire bene gli spazi in mezzo al campo e dove andare a riempire e poi la reattività nel cambio di fase quindi la transizione veloce sia che perda palla e quindi con la riaggressione lui parla anche di riaggressione confusa piuttosto che una non riaggressione nel senso sto perdendo il possesso del pallone andiamo tutti a prendere il pallone il giocatore più vicino va a marcare va a pressare forte e anche se la pressione sembra un po' confusionaria va bene nel senso che i miei compagni di squadra poi si dovranno adattare a questa situazione mentre invece in fase di transizione positiva ovviamente come detto prima bisogna cercare subito la verticalizzazione e andare a cercare di fare gol parlando più nello specifico del sistema di gioco 4-3-3 di Biagio dice che lui ama impostare l'azione con 4 più 1 nel senso 4 difensori più un centrocampista che viene a giocare e viene a costruire il gioco in alternativa può scendere anche una delle due mezzali quindi fare 4 più 2 con quella opposta che deve andarsi ad inserire in quella che lui chiama zona di rifinitura ovvero la tre quarti o comunque alle spalle del centrocampo avversario in questo modo si possono creare delle linee di passaggio sia in fase di costruzione sia per dare anche uno sbocco offensivo all'azione un altro concetto di base di cui ha parlato di Biagio è quello del passo il pallone e mi muovo quindi parla principalmente delle catene in cui l'esterno basso deve passare il pallone andare in profondità fare una sovrapposizione interna o esterna ma anche degli altri giocatori infatti in seguito a una domanda di uno spettatore lui dice che a volte tutti e tre i giocatori della catena della fascia possono salire i difensori ovviamente si devono adattare però è importante che ogni giocatore si muova in mezzo al campo e crei dunque dei problemi alle difese avversarie dopodiché l'allenatore della spalla ha dato anche delle altre indicazioni interessanti ha detto della percentuale con cui l'allenatore può incidere su una partita e quanto invece i giocatori lui parla di un 70% barra 60 per cui il giocatore è determinante mentre l'allenatore può valere un 30-40% un percentuale interessante perché spesso si sente parlare di questi numeri che comunque hanno il tempo che trovano in più sempre in seguito a un'altra domanda parla degli esterni utilizzati a piedi invertiti nel 4-3-3 o comunque gli esterni di attacco e qua lui espone come un esterno a piedi invertiti ovviamente abbia più facilità a rientrare quindi i tagli dei suoi compagni di squadra possono essere più ricercati però ha detto che nel suo ultimo periodo d'allenatore ha capito anche che il dribbling andando dritto per dritto sull'esterno è più difficile ma è anche più efficace e lui parla di chiesa nel senso che quando chiesa riesce a superare il suo uomo sulla fascia come lui fa spesso con la sua velocità a questo punto gli si aprono delle linee di passaggio molto pericolose in mezzo all'area di rigore e di conseguenza anche i difensori avversari ovviamente si devono andare a spostare sulla zona di chiesa in quanto non c'è più l'esterno basso perché è stato superato e dunque è piuttosto interessante questa considerazione degli esterni a piedi invertiti o meno infine ha parlato anche di come fare a stanare una squadra che rimane molto bloccata difensivamente e molto stretta e lui lo reputa un problema piuttosto importante ovviamente lui parla di triangolazioni nello stretto quindi andare fra le linee e poi tornare indietro giocare dentro, giocare fuori, giocare con molta velocità e poi effettuare molti traversori in mezzo all'area di rigore su questo vi do anche un altro approfondimento su un video spagnolo che parla di Bielsa e di come rompere un blocco difensivo dove ci sono 5 soluzioni per rompere un blocco difensivo appunto il dribbling e quindi la giocata del top player come Ronaldinho, Messi in più quello di spostare il pallone da destra a sinistra in ampiezza per muovere la difesa avversaria e creare degli spazi alle spalle dei difensori dove poter andare in profondità come detto vi lascio il link del video in descrizione così potete approfondirlo il video dura una decina di minuti quindi è sicuramente più preciso delle parole che vi sto dicendo adesso detto ciò fatemi sapere se questi video riassunto delle parole degli allenatori vi piacciono e vi possono interessare anche in futuro e noi ci vediamo settimana prossima con un'altra analisi tattica che sarà un po' più specifica del solito ma spero vi piaccia dunque ci vediamo al prossimo video grazie